La modella e attivista del gruppo animalista PETA, Amina Axelson, entra nell'arena durante una corrida in Spagna e cerca di raggiungere il toro morente, un gesto compiuto per sensibilizzare il mondo nei confronti della corrida. La sua idea era entrare nell'arena e confortare il toro ormai esausto e sul punto di accasciarsi dopo essere stato colpito dai toreri.